Io sono Xavier Rust, basato a Bruxelles, in Belgio, e ho già 20 anni di lavoro di design, esperienza nel design. Ho iniziato io da solo dopo studiare interior design. Io lavoro principalmente con aziende italiane perché ho capito che siamo nella sesta visione del design, vincato alla produzione e anche all'emozione, ma senza dimenticare le cose di produzione e la verità della materia. Questo tavolo si chiama Confluence, en français, Confluenza in italiano. Tutte gambe convergono in un punto di confluenza. E questa idea di confluenza si trova nella gamba qui che gira come l'acqua che va via nel fiume. La Confluenza è anche l'idea di gente nel contorno del tavolo per fare cena o pranzi. Un anno e mezzo fa abbiamo contattato Xavier Rust perché avevamo il desiderio di avere nella nostra collezione un tavolo che fosse un anello di congiunzione fra il mondo del design e quello dell'arco. Questo prodotto, che dobbiamo presentare al Salone del Mobile di quest'anno, nel 2014, viene caratterizzato da delle linee molto eleganti e sinuse, esattamente come erano le nostre aspettative. Sono diverse finiture, sono finiture molto politiche, tipo bianco, ma anche più ricche, con piani di legno e gambe brunette. Diverse espressioni di un stesso progetto. Questo lavoro va a piani ovali, retrangoli, tondi e speriamo sarà un grande successo. Grazie a tutti.